Ho i capelli un po' a casaccio... Sì, conoscevo già questo server progressivo, Netherwing appunto, e onestamente sono molto contento che stia per uscire, sono 4-5 mesi che aspetto che esca, quindi ancora ci vorrà creato un pochino, ma d'altronde devono levare i bug da una vecchissima patch, quindi posso capire la difficoltà insomma. E sì, avevo pensato di giocarci, avevo pensato di ricreare una gilda, avevo pensato di portare dei video sul canale per far conoscere questo server, magari recensirlo a livello di bug, che essendo un server non ufficiale ci saranno per forza, ma è giusto che sia così. Inoltre The Burning Crusade è la mia patch preferita, la mia espansione preferita di World of Warcraft, quindi non vedo l'ora di rigiocarla, veramente. Magari facciamo una gilda per far entrare anche tutti quanti gli iscritti al canale, se vogliono giocarci, così ci divertiamo tutti insieme. Ci si può pensare, ci si può pensare. Ancora è presto, ma ci penserò su. Vi lascio all'ultimo video di Wildlands, ultimo perché l'open beta è finita e ho finito il materiale. Quest'ultimo è un po' sul fancazzismo, sarà unicamente per ridere, per divertirsi rispetto agli altri, magari. Poi nei prossimi giorni, o nei prossimi giorni o stima prossima, arriverà la mia piccola recensione su questo gioco. E nulla, se il video vi piace, iscrivetevi, mettete il mi piace, commentate, condividetelo, attivate la campanellina così vi arrivano subito le notifiche dei video. Fate bravi, continuate a divertirvi. Io sono Ethereum e ci vediamo in un prossimo video. Domani. No, seriamente, comunque, volete divertirvi in 4, in 3? Compratevi sto gioco. È perché noi ci divertiamo con poco. Non voglio fare pubblicità alla Ubisoft, però... Ma dove dobbiamo andare, scusami? Attivata da... voi l'avete attivata, a me non me la fa... Ok, 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 anche l'ho vista. Ah, va bene. A me non abbiamo fatto invio, però. Ma aspetta, faccio un po' altro. No, 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 no. Ma adesso ancora non se ne è accorta. C'è un motivo se non mi piaceva fare la sposta intrapida. Non capisco qual'era. Quindi, aspetta un attimo che io non ci sono. E poi perché a me non mi piaceva. No! Ci serve l'elicottero, dai! Spara dal C4, vive. Sei un cretino! Ci serviva l'elicottero! Ah, sì, prendi l'app del telefono e chiamo un'auto. Ah, guarda che c'è! Non sto scherzando. C'è, eccolo qua. Eccolo! Ho ucciso un... Salve! Veramente. No! L'auto è ancora inizionante. Andiamo, andiamo! L'ho salvata! L'ho salvata! Non è vero? Vattene, vattene! Ma come hai fatto per la macchina? Eh, tab 1. Però il cooldown è della squadra, capito? Basta, ragazzi. La verità è che c'è. Adunata! Ho un'idea, ho un'idea, ho un'idea. No, no. Perché tipicamente quando fai il diversivo, vengono loro con una macchina. Oddio! Ben fatto, gente! Marco, se puoi scendere e puoi prendere il tuo qua. Io vi seguo. No! Penso che sarai costretto a salire. Sei l'essere più indegno che esista. Non mettere il C4! Ma finisci di sparargli col cecchino. O di spararmi col cecchino. Ma io li prendo due proietti e li schivi apposta? No, no. Sto provando a schivarli. Vai, stai bene. Ma ti ha fatto entrare anche nel top. Guarda che può spararti. Signora, mi dispiace. Era talmente prevedibile che io mi sono spostato. Ma questa è una camionero. Camionero. Ricordate la velocità? Sì. Però non muori. Ci possiamo sparare appiccino? Cosa sto guardando? No, non hai capito il cazzo. Scendi. Chichio, vai dietro. Chichio, vai dietro. Lui è il serio direttamente dietro. Vai, cammina. Parti, parti. Ma che figa. Si butta direttamente dalla mano. Ora vi spiego il piano. Io arriverò davanti ai nemici. Che probabilmente sono dentro l'edificio. Quindi non li prenderai. Devi avere fede. Devi avere fede. Vai, uscite. Vai. Vai. Ecco, sì, l'ha fatta esplodere dove si è rimasto dentro la macchina. Non poteva uscire. Ah, io non so come si arriva da sopra, quindi nulla. No, tranquillo. Neanche lui lo sa come si fa. C'è una merda, stai. Perché c'era una granata? Ok, vedo l'elicottero che si muove. Se vuoi viaggiare... Ecco, poi c'è un'altra merda che mi dice. Io ti voglio arrestare e lui mi dice la granata. Non ce la farò mai riprenderla. Guarda come tira. Marco, vieni verso di me. Oh mio Dio. Cosa... Se sei precipitato nella montagna. Ma è una Lamborghini Gallardo. O Gallardo. C'è un segnale di fumo, ci vedono praticamente. Però la cosa bella, l'hai visto, il fumo esce da dietro. Perché il motore è dietro. Perché il motore è dietro. Grazie. No, 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 no. Ho piacere. Ho piacere che morissi. Tutte e due. Questo gioco io lo voglio. Lo voglio. Vabbè Marco non mi mettere sotto perché ti giuro. Andiamo. Che cazzo... Che succede? Che succede? Che co... Attento allo... Madonna come l'ha lisciata. Mamma mia. Chiamatemi il doggiatore di missili. Ma quest'aereo lo può fare. Comunque c'è fattuti dell'unidad. Tre. E non spunta nessuno. Ho ucciso tutti. No tranquillo, arriva, arriva. Dai, chiudiamo. Ma hai granate infinite? Ci sono le cose qua. Ci sono le munizioni. Ci sono le ammo. Ah, se ammazzo un altro singolo civile mi fallisce la missionata. Non lo fare più. Il cooldown è partito. Ma come il civile è ucciso? Ma non è vero! Sincopo. Ma non è... Ma perché il civile è ucciso? Ma perché? Ma non c'era nessuno! Sono solo un assassino. E poi diminuisce di nuovo un altro civile e fallisce. Ma non ci sono altri quattro nel frattempo. Eh, se ne è da tre... Tre stelle, chiamole così, ma... Ma perché ogni volta che lanci una bomba muore anche un altro civile? Non ne lanciate più! È allucinante! Basta! Io dovrei vedere se ho un'ottica. Ma non ho colpito un civile! Aspetta, scusa un attimo. Fermo, Alessio. Fermo, Alessio. Aspetta, fermo, fermo. Sì, sicuramente, Marco. Volevo il pensito. Aspetta. Ah, ma scompagna a un certo punto. Sì. E ne è fuggito! Sì. Madonna, cosa ho visto? Per un attimo mi si è frizzato il computer. Creatori del gioco. Io vi voglio bene. Però vedegrado un gioco dove i terroristi siamo noi, non i cattivi. Esatto. E non va bene. Non va bene. Minchia! È una merda. Civile, non morire! Qualcuno mi vede i prossimi... Non vedo niente. Io sono nella macchina. Il problema è che non mi hai investito, mi hai sfiorato con lo specchietto. Lui... Ma Alessio sta allargando, sta morendo. Penso che sia. Non so se... Allargando. Vabbè, Alessio. Ah, il gioco... La connessione è scelto per te. Basta. La connessione è scelto, basta. La batteria del drone al massimo, due di gittato, un di fortipedale, due di marcatura. Poi tutta mira stabile. Il paragraf 2 dello zoom del binoculo, due di C4 e la visione termica. Viva. Allora, sì, signori, signori, siete ancora qui, Stefano? Sì, io sono ancora qui. Il gioco come The Division ai tempi mi si sta a te l'ora per chiudere. Perché... Ok, si chiude. What? Appena si è disconnesso è morto istantaneamente. Io tengo i viti civili. Ho il potere di non far morire la gente. Io ho suicidato sia me che tutta la mia squadra e diandomi i mortelli addosso. No, seriamente. Comunque, volete divertirvi in quattro, in tre, compratevi il suo gioco. Grazie.